Quare di Nerazzurri, un buon campionato a tutti. Un saluto da Roberto Scarpini collegati con il Via del Mare del Lecce in una partita che apre il campionato. Inizia in questo momento il campionato. Forza ragazzi! Dimash, l'uomo in più da questa parte, che sale e crea superiorità e prova a piazzarla dentro. Cerca il secondo palo. Tarmian, la piazza, Lukaku! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Luka, 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 Luka! Luka, Luka! Luka, Luka, Luka! Luka! Luka, Luka, Luka! Luka, Luka, Luka! Luka, Luka! 1-0! Sesai prova a recuperare di Francesco, attenzione alla transizione con Sesai che attacca alla profondità, entra in area, va al tiro e c'è il gol del pareggio. Il gol del pareggio di Cesai all'esordio in Serie A Trova il gol dopo due minuti Come dopo due minuti aveva segnato Lukaku Dopo due minuti con un diagonale Trova il gol del pareggio Recuperano loro con Neblin Strefezza, attenzione alla sovrapposizione Va al tiro, cerca l'angolo opposto Palla fuori, applaude la gente di qua Parte Bistrovic Tiro, grande parata di Samir Decisamente ben battuta questa punizione Barella che prova ad andare Fuori per Darmian, cross morbido Secondo palo, arriva Dimash Il miracolo di Falcone Un tiro forte di collo pieno Dimash, pronto il contro cross Bello, secondo palo Dumfries, palo Il palo ci nega la gioia del gol Il colpo di testa di Dumfries E la palla, portiere battuto Si stampa sul palo Dai ragazzi, parte il cross No, palla per Bastoni Lui la piazza Il colpo di testa di Lautaro Che sbuca come uno che ti esce da un tombino All'improvviso Da Yulmand che fa un lungo lungo per Bandà da questa parte Arriva Gallo in sovrapposizione Bandà, prova ad andare al tiro E c'è la parata di Andanovic in corner Bastoni, bello Gol, dai e vai, Lautaro Ancora Falcone Ancora un miracolo Palla in avanti Dzeko, Lukaku Si muovono bene Allarga per Dumfries Il cross, il piattone Palla libera Lukaku Salvataggio ancora In calcio d'angolo Di Falcone Che fa un miracolo Barella Dall'angolo Palla dentro Colpo di testa La mischia E' gol 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 Ed è stato l'olandese volante Che è volato Su quel pallone E al minuto 94 L'ha messa dentro Non ce n'è L'Inter spugna il via del mare Con il gol di Denzel Dumfries Al 95esimo 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 Al 95esimo